Ciao, io sono Nicole e sono una cantatrice classe 99 di Vicenza. Io sono semplicemente una ragazza che ce l'ha già fatta nella vita, nelle proprie battaglie personali, e vuole utilizzare la musica esclusivamente come mezzo per fare capire a più persone possibili che nulla è impossibile. Satellite è un brano che è nato durante la prima fase della quarantena, e con quel brano volevo evadere e ho fatto questo viaggio che parte dalla Terra fino ad arrivare a Marte. Diciamo che spazio davvero molto nei miei ascolti, passo da Lucio Dalla a Tyler The Creator, a gruppi magari più sconosciuti come i The Neighbor o dai Team Impala. Però quando sono in studio, o comunque quando scrivo le mie cose, cerco di focalizzarmi su quello che c'è dentro di me. Comunque queste influenze in modo indiretto sicuramente ricadono poi sulla mia musica. Penso di essere social quanto basta, nel senso cerco di coinvolgere comunque le persone nella mia vita, privata, quando può servire a loro, quando può insegnargli qualcosa. Ma comunque predilico contenuti musicali che facciano capire il mio lavoro comunque. Il mio sogno più grande è quello di arrivare nella vita di più persone possibili, nel momento in cui mi trovavo io nel passato e avrei voluto che qualcuno ci fosse esattamente come io vorrei esserci per gli altri. Quindi il mio sogno è quello di arrivare con la mia musica nel momento giusto e di salvare un sacco di persone.